Ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti su mbg come dico mbg forse già l'avete visto il diale di Greta Menchi cioè vi farò vedere solo alcune pagine le pagine che io amo di più sarebbero non posso parlare perché questa faccio subito vi consiglio di comprarlo proviamo davvero per il mio consiglio qua quando si è fatto a tanti colori nei capelli c'è scritto e poi ho questa piccola sezione per i capelli questa poi c'è questa poi ce ne sono tante altre che non ti faccio vedere aspetta perché poi c'è questa qua che è molto carina e qua pure ragazzi questo video è finito spero che il dialo vi piaccia io lo faccio soli 6 euro ve lo consiglio ve lo consiglio davvero and that iscrivetevi al canale a prossimo video grazie a tutti grazie a tutti